Si chiama Lidia Sirabella, ha soli 16 anni ed è già un talento nell'arte figurativa. Abbiamo qui l'artista, qui ci sono anche tante delle sue opere. Tra l'altro Lidia ha esposto presso l'Associazione Brandi in una mostra, una personale che ha avuto molto successo. Allora, come è andata questa avventura all'Associazione Brandi? Allora, la mostra è avvenuta il 14 e 15 ottobre di quest'anno ed è andata molto bene, devo dire. È stata la mia prima mostra, è una personale. Mi ha fatto piacere che i miei amici, i miei professori siano venuti a vederla. Le hanno apprezzato. Allora, un po' di curiosità. Io so che tu, da quando sei proprio piccolissima, hai cominciato ad avvicinarti alla pittura, al disegno. Raccontaci un po' come è cominciata. Allora, io ricordo di aver disegnato da sempre, però mi sono focalizzata sul disegno da un anno, più o meno. Quindi ho deciso di voler intraprendere una carriera e spero che funzioni, perché mi piace davvero disegnare. Però tu non disegni solamente, tu fai proprio dei quadri. Vedo che utilizzi anche molto i colori. Quali sono i soggetti che tu ami dipingere? Allora, i soggetti sono per la maggior parte cantanti o artisti che mi ispirano. Gli esempi sono delle band che mi piacciono, David Bowie, Lady Gaga, Frida Kahlo. Sono tutte persone che mi ispirano ogni giorno e mi fanno provare sentimenti forti. Sulle tue opere c'è una firma, ma a parte la tua, c'è una firma, diciamo che la possiamo vedere, è Scomish 69. Come mai? È stata un'invenzione di quando avevo dieci anni, non ne sono tanto fiera, infatti vorrei cambiarla, però ormai ho firmato tutti i miei disegni. Però significa qualcosa per te? È legato alla band che ho disegnato per la maggior parte dei miei disegni. Sì, sono i nomi dei due cantanti. Ti volevo chiedere, ti faccio l'ultima domanda. Tu vuoi approfondire anche la tecnica, vuoi seguire un percorso anche dal punto di vista proprio universitario, in questo senso? Sì, vorrei fare un'accademia di belle arti e procedere a fare qualcosa, adesso non so di preciso cosa, però sempre in campo artistico. E ti piacerebbe fare un'altra esposizione? Sì, ovvio, mi piacerebbe farne altre, molte di più. Ti possono seguire una pagina? Vabbè, su Facebook Lidia Sirabella, invece su Instagram Scomish trattino basso 69.